Ciao a tutti, siamo in uno studio medico con dottor Pierfrancesco Di Masi, anestesista e reanimatore IRCCS De Bellis di Castellana Grotte, medico referente nazionale dell'Associazione Con Slancio. Oggi a Saiche, comunicazione efficace in campo sanitario. Dottor Di Masi, perché è importante la comunicazione in campo sanitario? Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di WebTV. Il tema che mi è stato proposto di trattare e la domanda molto importante che mi è stata posta ha subito una risposta. È importante questo tema perché noi sanitari abbiamo davanti delle persone che vivono un momento di estrema fragilità, un'estrema complessità clinica, per cui per potersi muovere noi sanitari dobbiamo saper fare essenzialmente tre cose, tre punti fondamentali che vediamo in questa videata. Innanzitutto saper essere, saper essere vicini ai nostri malati, ai nostri familiari e saperlo fare con noi stessi, con la nostra capacità di saper capire il problema che abbiamo di fronte. Ma il secondo punto fondamentale è saper fare. chiaramente ci vuole la professionalità, ci vuole la competenza, ci vuole la capacità di entrare nel tema, saper muoversi sapendo quali sono i punti essenziali della comunicazione. E quindi alla fin fine saper comunicare. Saper comunicare è fondamentale perché ci permetterà, e lo vedremo in questo spazio che noi stiamo dedicando, ci permette di curare meglio il malato e la famiglia che è attorno al malato. Come vediamo in queste videate, noi diamo una definizione etimologica e quindi la radice del termine risale al verbo, ad alcuni verbi, il greco koino, che rende comune, oppure koinoneo, partecipo. Entrambi comunque legati al concetto di koine, comunità. Deriva anche dal latino cum maenia, scambio di doni all'interno di uno spazio comune. L'etimologia quindi mette in evidenza un termine delle comunicazioni che è spesso in secondo piano nella nostra cultura. Lo spazio comune del noi. Ma gli elementi della comunicazione sono fondamentali. Iniziamo subito a vedere, questa è una molto chiara, molto importante. Forse io chiedo proprio ai telespettatori di fare proprio un focus, di memorizzarla. Noi in questo momento io sarei un mittente, io sono un organo emittente e tutti voi che non siete in una sala ma siete dall'altra parte del computer, siete dei destinatari. innanzitutto il messaggio che io mando da me, mittente, a voi segue un canale che in questo caso è il sistema di digitalizzazione. Voi in questo caso non mi potete mandare un feedback perché siamo distanti, non abbiamo il contatto che ci può essere magari in una sala, in un ambiente. Potreste mandarmi il feedback, il feedback che fra poco vedremo, in tante maniere magari un contatto, una comunicazione al sito web tv. Ma quando si sta in un ambiente, quando si sta magari in una stanza con dei familiari e un malato, il mittente ha di fronte un destinatario. Il canale è quello della stanza in cui si trova e il destinatario riceve dei messaggi e ce li rinvia direttamente. Questi messaggi sono il cosiddetto importantissimo feedback. Cioè il destinatario rileva quello che noi stiamo dicendo, si comporta in base a quello che stiamo dicendo. Però attenzione, quando c'è un mittente che parla e un destinatario che riceve, ci possono essere anche altri elementi che possono distorcere la qualità di quello che noi vogliamo comunicare. E quello può essere dovuto anche a dei codici particolari che ci sono nel messaggio. Come io utilizzo quello che dico, che lingua utilizzo, come utilizzo le parole. Poi se ci sono dei rumori di fondo, un treno che passa, un bambino che piange, chiaramente questo rumore fa parte del contesto e sicuramente peggiora la qualità della comunicazione. E quindi andiamo a vedere quali sono le dimensioni della comunicazione. In questa videata che vedete appare subito evidente come c'è un elemento incredibile, la cosiddetta punta di un iceberg. Cioè quando una persona parla e un'altra persona riceve, quello che viene mandato è soltanto la punta di un iceberg. Veramente la punta dell'iceberg. Perché tutto quello che c'è al di sotto di questo iceberg è tutto ciò che è purtroppo non verbale. Purtroppo, tra virgolette, perché molte volte le persone lo utilizzano in maniera molto furba, attenta. Quindi la punta dell'iceberg è composta da quello che io dico verbalmente. Le parole che utilizzo, come le utilizzo. Poi tutto ciò che viene sotto a questa punta dell'iceberg è una parte non verbale. è anche questa mano che gesticola, anche il modo di avere la postura del corpo e quindi fa parte di tutto ciò che è non verbale. Poi in fondo abbiamo la paraverbale che è un aspetto ancora più complesso, una maniera sottile di dire una cosa e cogliene un significato opposto. Vediamo come le persone, da questa videata, usano anche gran parte della comunicazione extraverbale. Vediamo questa persona che utilizza una mano per farsi capire, oppure un'altra persona che tiene le braccia sulla spalla della persona che vuole assistere e dà conforto, sicurezza. Ecco quanto è importante tutto ciò che è non verbale. Però attenzione. è molto importante che questo messaggio che noi diamo alle persone che vogliamo aiutare possa essere sostenuto. Quindi bisogna saperlo sostenere. E attenzione, bisogna prendersi cura di come gli altri lo percepiscono questo messaggio. Non possiamo soltanto parlare, lanciare il messaggio e non ricevere nulla in ritorno automatico. Quindi bisogna prendersi cura di quello che noi mandiamo affinché questo arrivi a destinazione. E quindi ritorniamo sul concetto del feedback, che è un elemento fondamentale. Ogni volta che noi parliamo con una persona, dobbiamo attenderci una risposta. Che non è detto che sia una risposta verbale. È una risposta fatta di tanti elementi. Io sono l'organo emittente, lo vediamo in questa videata. Io sono l'organo emittente, mando un messaggio e c'è un organo ricevente che decodifica il mio messaggio, che è un elemento di codifica. Segue un canale e l'organo che riceve rinvia indietro un feedback. Che cos'è questo feedback? In inglese viene tradotto come messaggio con informazioni di ritorno. È un aspetto veramente molto importante. Il feedback è essenziale perché innanzitutto è la fonte di verifica della efficacia di come noi stiamo comunicando. Perché se noi mandiamo un messaggio e non andiamo a verificare quello che noi stiamo mandando, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Oppure non abbiamo colto nessun feedback. Quando noi mandiamo un messaggio e riceviamo un ritorno e magari la persona che sta di fronte a noi ha un'espressione di fastidio, di incertezza, di insicurezza, ci fa capire che dobbiamo revisionare il nostro messaggio. E perché noi abbiamo l'obiettivo che questo messaggio arrivi a destinazione. Quindi il feedback ha la sua importanza. Quando questo feedback manca, forse per certi versi proprio in questo momento che io non vi vedo dall'altra parte del monitor, dall'altra parte di come state ricevendo questo servizio di web tv, io non posso avere il vostro feedback. Quindi in un certo senso vado in difficoltà perché non posso ricevere nessun ritorno. Magari se vi vedo di fronte vedrei la vostra espressione interessata, incuriosita, affascinata. E quindi questo è un feedback che io vado cercando quando sto in un ambiente e comunico in un ambiente che può essere quello sanitario con un malato e la sua famiglia vicino. Quindi il feedback deve essere stimolato. Cioè io parlo, voglio vedere, osservare che reazione ha la persona che mi sta di fronte. Lo stimolo, cerco di trovare nei suoi occhi, nella sua espressione qualcosa che mi deve ritornare. Io mi devo mettere in ascolto, quindi saper ascoltare. Se io mando un messaggio e poi mi distraggo, faccio finta di niente, non sto ascoltando, non mi sto fermando a cogliere. E soprattutto c'è da auspicare che la persona che ascolta lo sappia dare il feedback, lo sappia comunicare. O una persona disinteressata, completamente fuori dal contesto che magari non dà nessun feedback di ritorno. Quindi il feedback è efficace e si mostra utile se serve a fare chiarezza. Molta chiarezza. È necessario parlarsi reciprocamente ed evitare che ognuno vada per la propria strada. Perché se c'è una comunicazione tra due parti e ognuno se ne va per la propria strada, è tutto completamente inutile. Il mio ruolo di medico che vuole aiutare la famiglia è inutile. Se io non riesco a far capire l'importanza di un farmaco, è tutto inutile. Se il malato non riesce a capire l'importanza, non si fa curare bene dal suo medico. Bisogna col feedback evitare i malintesi. E questo in comunicazione avvengono spesso. Magari uno può dire una cosa, non essere compreso, e lo vede dal feedback. perché se la cosa che viene mandata non viene colta o viene capita male, la persona di fronte farà un'espressione strana, instranita, una espressione incapace di capire il significato e quindi rimane incerto. E quindi il feedback serve proprio a evitare questo malinteso. E quindi ci permette di rivedere il messaggio. Magari se vedo incertezza nella persona che mi sta di fronte e mi ha dato un feedback di incertezza, è chiaro che io devo riformulare quello che dico. Quindi questo serve, questo feedback, se è efficace, serve a costruire meglio la relazione, far capire all'altra persona che siamo veramente interessati alla comprensione del mio messaggio. Quindi questo influenza la relazione che piano piano si sta costruendo tra un organo emittente e un organo ricevente. Attenzione. E qui entriamo in un altro tema molto importante, molto richiesto, che chi sta in sanità ma anche negli altri ambienti di lavoro è molto importante. Si chiama ascolto attivo. Che cos'è questo ascolto attivo? È la capacità di leggere le emozioni degli altri, i sentimenti non verbalizzati dell'altro, fino alla comprensione dei problemi e delle preoccupazioni che alimentano i sentimenti di chi sta parlando. Chi non conosce l'empatia? Chi non conosce questa grande dote che ognuno di noi deve avere per cercare di cogliere quello che sta vivendo la persona di fronte? Perché è importante questo ascolto attivo? Perché è un elemento di decodifica della comunicazione che ci arriva dall'altro. E alla fin fine qual è il risultato? Che migliora la comprensione reciproca. Migliora la qualità dei rapporti, ma anche i rapporti tra una coppia, i rapporti tra un datore di lavoro e il suo dipendente. Migliora tutto. Ma questo ascolto attivo non è casuale. Occorre avere capacità, avere capacità di cognizione di causa. E quindi prima cosa, osservazione. Dedicare attenzione ai comportamenti che esprimono le emozioni, gli atteggiamenti, le intenzioni dell'altro. Guardate in questa foto, in questa immagine, guardate il medico come osserva con attenzione la persona che ha di fronte. Per capire se ha compreso i messaggi che lui gli sta inviando, le strategie di prevenzione, le strategie terapeutiche. Lo guarda attentamente. Non è uno sguardo perso. È uno guardo molto attento e molto specifico. Quindi dedicare attenzione ai continui feedback che ci tornano di fronte dalla persona che abbiamo di fronte. Dedicare molto attenzione. Certe volte ricorre anche all'uso di domande. Fare delle domande per capire di tirare fuori questo feedback. Che possono essere aperte, non chiuse, dirette e non dirette. Sono domande quasi sempre di approfondimento oppure di ritorno. Nelle tecniche di ascolto attivo è molto importante la riformulazione. Cioè riprendere quello che noi abbiamo detto, magari avendo colto che la persona non è molto convinta, e allora ricorre a degli esempi, dei concetti differenti, collegando il concetto a qualcosa che è comparabile, riproducibile. Serve dare quindi molta enfasi e importanza al messaggio e creare anche e soprattutto un clima di disponibilità. Vi è anche l'aspetto importante della ricapitolazione. Ribadire appunto i punti della comunicazione, cioè ritornare su quello che abbiamo detto per stressare alcuni passaggi. E la persona rimarrà colpita e interessata a questo passaggio. Molto importante per cercare di fare chiarezza su quello che sono i punti più dettagliati, più delicati. E soprattutto comprendere le priorità, chiarire le conseguenze della comunicazione sotto un profilo pratico e operativo. Chi sta vicino al malato può essere generalmente un caregiver. E quindi è molto importante che il caregiver, e soprattutto quelli che operano il processo di cura, possa far comunicare quello che ci si attende dall'organizzazione che sta attorno al malato. E quindi porre attenzione da parte del caregiver al sistema verbale e non verbale di chi entra nella casa. Prestare attenzione nei problemi, anche quelli inespressi dagli operatori. E svolgere un ruolo di unione fra le varie parti e incentivare la comunicazione. Una comunicazione con comunicazione efficace. Attenzione, vi pongo una domanda, voi che siete nelle case. Quanti di voi ascoltano il proprio modo di parlare? Quanti? A quanti è successo di essere accusati con una frase di questo tipo? Ma ti sei ascoltato quando hai parlato? Quanti lo fanno questa rivalutazione? Quindi a questo punto il mio è un invito alla consapevolezza comunicativa. Imparare ad ascoltarsi è un punto di partenza. Perché favorisce la scoperta di se stessi. E soprattutto ci aiuta ad avere anche un controllo delle emozioni negative che noi possiamo avere che chi sta di fronte riesce a cogliere. E in un certo senso rimane perplesso. La consapevolezza comunicativa è avere piena coscienza del mondo che sta attorno. Significa vedere le cose come sono senza tentare di modificarle. Eliminare le nostre reazioni alle emozioni inquietanti. Mantenere una certa capacità, un controllo del sé, facendo attenzione a non respingerla come emozione. Perché l'emozione è un'emozione. La piena coscienza può cambiare anche il nostro modo di relazionarci con le nostre emozioni, di percepirle senza eliminarle. Quindi quanto è importante conoscersi. Alcuni di noi hanno più consapevolezza degli altri della propria espressività corporea, dello stato d'animo. Ci sono persone invece che sono piuttosto fredde e avranno magari più facilità nel controllare i messaggi non verbali. Ci sono persone che hanno un controllo continuo della propria messaggistica non verbale. E invece ci sono persone emotive che trasmettono tutto e in un certo senso sono un po' anche sfavorite perché le loro emozioni vengono fuori. Conoscersi. Capita spesso che ci siano delle incongruenze, attenzione, e la persona che sta di fronte lo coglie, tra quello che diciamo e quello che veramente vorremmo dire. E questo è destruente, questo è anomalo da parte di chi sta vicino. Perché capisce che questo sta cercando di prendermi in giro. Quindi riuscire a leggere questa incongruenza ci aiuta a capire la verità sul nostro interlocutore. E quindi ci sono tanti elementi. Come vedete questi messaggi, questa videata molto interessante, i messaggi purtroppo del nostro corpo spesso non sono controllabili. Le donne per esempio hanno una discreta familiarità con i segnali che esprimono. E la stessa cosa con gli attori che per motivi di lavoro devono sviluppare un particolare intuito in questa dimensione comunicativa. sappiate che quando uno di noi è in ansia, intona una vera e propria sinfonia di movimenti. Tic nervosi, movimenti continui, giugulare che si ingrossa, mani che si artigliano, hanno degli atteggiamenti nervosi, cambiamo spesso posizione, non manteniamo una postura stabile. E in questa maniera si porta anche a mentire senza darlo a vedere. In questo modo noi dobbiamo essere calcolatori e attenti di quello che noi mandiamo. Ci sono tutte le parti del corpo che comunicano. Noi non ce ne rendiamo conto. Ma anche addirittura la direzione dei piedi che vengono assunti e la postura aiutano a capire l'atteggiamento della persona. Per esempio a un colloquio di lavoro. Se la persona si posiziona verso la porta esterna, vuol dire il messaggio inconscio che sta dando al datore di lavoro, che sta facendo un colloquio, che la persona che si sta sottoponendo al test non vede l'ora di andarsene. E questo è un messaggio destruente per l'esito finale del colloquio di lavoro. Quindi è molto importante vedere la postura del corpo e quindi anche noi evitare di dare questi messaggi. Ma soprattutto è il volto. Ci dà dei messaggi continui, l'esuberanza del volto. Ci porta a capire moltissimi messaggi. E questo è molto importante perché partendo dal corpo è molto importante che noi possiamo dare un elemento importante che può essere utile a noi sanitari, ma in qualsiasi ambiente. Anche nel rapporto tra persona e persona. È la credibilità. Il modo di approcciarsi. Quando siamo in apprensione, facilmente uno si muove sulla sedia, ha difficoltà a mantenere lo sguardo fisso. Anche il modo di toccare se stessi può implicare un'agitazione eccessiva. Quando una persona fa questi atteggiamenti continui, trasmette dei messaggi molto evidenti. Anche la voce può tradire questi stati d'animo. È chiaro che una voce che è un po' interrotta, che è stridola, insicura, inconscia. Sta trasmettendo una forte, scarsa credibilità. Trasmettere credibilità passa attraverso elementi importanti. Il timbro della voce è questo che ha un suo valore. Il modo di guardare fisso. Però attenzione. Guardare fisso, io lo guardo ora fisso alla telecamera, ma attenzione che se noi abbiamo una persona e la guardiamo troppo fissa, possiamo anche far trappellare un eccesso di sicurezza o anche di insicurezza. È molto bello poter guardare con serenità, anche con distacco. Cercare anche di modulare lo sguardo su altre cose. Non essere troppo diretti nello sguardo aggressivo. E quindi avere una capacità che è molto importante nell'espressione, nella comunicazione, che si chiama l'estroversione. La capacità e il distacco di saper comunicare. Saper guardare con sicurezza la telecamera oppure la persona che sta di fronte. Non lasciarsi andare a uno sguardo puntato, fisso, che invece crea uno stato di incertezza. Guardate che ci sono tratti del volto estremamente chiari e della postura estremamente evidenti. La rilassatezza del volto implica una capacità carismatica importante. Quindi è questo l'elemento, il concetto fondamentale che stiamo approfondendo e stressando. Il valore dei segnali non verbali. Ma voi pensate che il 55% della nostra comunicazione non è verbale. È vero, io sto parlando davanti a una telecamera, ma quando sto parlando con un'altra persona, il 55% di tutta la comunicazione che passa è non verbale. È la mia postura, la mia mano, i tratti del volto, l'espressione, la contrattura dei muscoli del viso. Le parti del corpo che comunque trasmettono in maniera prioritaria essenzialmente il volto della persona. Perché ci sono tantissimi muscoli nel corpo, scusate, nella pelle della persona, nel volto della persona, che possono modularsi, andare in contrattura e manifestare dei messaggi subliminali estremamente importanti. Ancora una volta, ribadiamo, 55% dei messaggi sono non verbali, 7% soltanto verbali. Però attenzione, ora entriamo in un tema fondamentale. Questa videata ci fa capire che noi dobbiamo avere un obiettivo. Se noi parliamo di comunicazione efficace dobbiamo assolutamente avere tre elementi, cioè tre passaggi fondamentali che ci aiutano a far sì che il messaggio che noi mandiamo abbia un risultato positivo. Noi dobbiamo persuadere, convincere, intrattenere. Guardate questa donna come riesce a essere coinvolgente in quello che vuole trasmettere e guardate le persone che osservano con attenzione. La persuasione è un processo con cui intenzionalmente si inducono altri a cambiare atteggiamento. Quanto è importante saper persuadere? I venditori, chi vende, chi vuole promuovere un evento, una situazione, un concetto. Persuadere è una strategia molto attenta da saper gestire con attenzione. Guardate che persuadere è mille volte meglio che costringere un'altra persona. Anche nel rapporto genitori figli la persuasione vale molto di più della convinzione e nella costrizione. Purtroppo, purtroppo, lo dico due volte, la costrizione è prevalente, forse anche una sconfitta dei genitori contro i propri figli. La persuasione è una vittoria. Una forzata convinzione non farà mai cambiare l'opinione di una persona, ma con la sublime arte della persuasione si può anche riuscire a tutto. Ma la persuasione in cosa consiste? Ci sono delle strategie per essere persuasivi, non è una cosa che troviamo per strada. La persuasione ha una sua capacità di fondo. In questa avvidiata è molto interessante vedere questi tre punti. Uno è la credibilità percepita, il cosiddetto expertise, l'autorevolezza. È chiaro che una persona che si presenta a un colloquio di lavoro con una maglietta stracciata, ho un portamento disordinato, i capelli disordinati, mi volete spiegare che autorevolezza riesce ad avere con l'interlocutore? L'expertise è anche saper avere contezza di quello che si dice, di quello che si è, di quello che è il proprio ruolo. Ma poi avere anche un'attrattività percepita. È chiaro che una donna può essere favorita, è chiaro che un qualsiasi persona può essere favorita da avere un bello aspetto, un aspetto positivo, ben posizionato, soprattutto il carisma. E poi la similarità percepita. Perché i sacerdoti certe volte scendono dall'altare per parlare con i propri fedeli? Perché è molto importante mettersi sullo stesso livello per cercare di far arrivare questo messaggio e persuadere sulle parole e sui concetti importanti. Pacing e dispacing sono elementi molto importanti. Il pacing è una tecnica di comunicazione che consiste nel mettersi allo stesso passo con gli altri, cercando di arrivare sullo stesso livello loro. Il dispacing si utilizza quando non si vuole avere una perfetta sintonia con chi riceve il messaggio. Però attenzione, la persuasione ha anche degli elementi pericolosi. Per esempio l'effetto paradosso. Molte volte se io con la persona che ho di fronte supero una distanza fisica e posso raggiungere anche meno di un metro, oltre ai problemi noti del distanziamento in questo periodo, ma se mantengo una distanza troppo vicina e inizio a essere un po' insistente, suscito una risposta negativa che viene chiamata reattanza. Una risposta difensiva perché c'è una propria libertà dell'interlocutore di difendersi da chi vuole persuadere. È una polarizzazione in direzione opposta. Quando i nostri destinatari però invece sono adeguatamente motivati, vedrete che loro saranno convinti delle nostre motivazioni. Quindi agiamo prima con la motivazione verso di loro e poi vedremo che la convinzione su quello che noi vogliamo persuadere arriva. Quando invece i nostri destinatari sono poco interessati, saranno convinti magari da elementi esterni, magari andranno a vedere in questo momento che colore è la mia giacca o altro, ma non sono interessati alle mie parole. Ecco che è molto importante che in questo momento voi che siete dall'altra parte del computer e state seguendo questo incontro, state cercando di capire se sono interessati alle mie parole oppure alle elementi esterni. Però attenzione, è molto importante che la comunicazione che avvenga tra due parti abbia tre elementi, tre profili diversi. È molto importante che noi possiamo conoscere questi tre profili perché, conoscendoli, evitiamo quelli sbagliati. Allora, questi tre profili sono una posizione che viene chiamata passiva, un'aggressiva e l'altra assertiva. Vediamo il passivo. La figura passiva è una persona magari che sta con la testa abbassata, non guarda negli occhi, tiene lo sguardo basso. Una gestualità che magari non è coerente, magari sta parlando di una cosa importante e poi muove la mano in una maniera irregolare. È una gestualità non coerente. Questo stile sottovaluta le effettive capacità della persona. La persona magari parla anche con un tono di voce, un timbro un po' basso, insicuro e si fa condizionare ad un eccesso di timidezza. Questo è un profilo passivo. Questo dito puntato è estremamente pericoloso. Quando comunicate e usate un dito puntato, fate attenzione perché questo è lo stile delle persone che amano schiacciare gli altri. Tendono ad aumentare il volume vocale, usare un tono sarcastico, aggressivo. A volte è uno, guardate che proprio questo è uno stile che nasconde la timidezza della persona. Molte volte la loro aggressività è uno strumento di difesa. Questo stile ha l'obiettivo di sottomettere l'altro, ma non dà la possibilità di controbattere e quindi in un certo senso non c'è comunicazione. Attenzione, guardiamo quello che vi sto spiegando con molta passione perché è molto importante. Ricordatevi in questa parola, l'assertività. La persona assertiva è lo stile della persona che ama il contatto con gli altri. Utilizza al meglio lo strumento della voce, rispetta gli altri, adottando un comportamento verbale che non prevarica. Questa persona assertiva magari è semplicemente sicura, è decisa e ha cognizione di causa di quello che conosce. Ammette quando sbaglia, accetta la critica e a sua volta sa criticare in modo costruttivo. La figura dell'assertivo ha uno sguardo aperto, portato all'ascolto attivo, sa mettere a proprio agio l'interlocutore, accoglie l'altro nel rispetto dei diritti, gestisce bene la comunicazione che sa verbale, non è contraddittorio nel suo comportamento. La sua postura è eretta, priva di rigidità e morbida anche nel suo modo di gestire. Condisce il messaggio verbale in un insieme armonioso di gesti e di sguardi che evidenziano il suo interesse verso chi ascolta. Quindi la comunicazione assertiva, guardate bene questa videata, è fondamentale e memorizzatela. Consente di raggiungere l'obiettivo di interagire e reagire con gli altri, permette un miglior approccio, consente di creare buone relazioni, permette di gestire ogni problema che nasce incontrando l'altro. Permette di impostare le relazioni interpersonali in maniera collaborativa e costruttiva. È un'azione che evita lo scontro, prende le distanze dall'aggressione verbale e dall'inespressività dovuta a quel modo di fare passivo. La comunicazione assertiva permette di esprimersi in maniera chiara, semplice e diretta. Evita l'uso di pregiudizi, di generalizzazione. La persona che utilizza questo stile comunicativo si assume la responsabilità dei propri errori e con questo conquista l'altra parte. Sa accettare la critica e critica a sua volta in maniera costruttiva, senza sminuire l'autostima dell'altro. Allora, dottore, come un sanitario deve comportarsi davanti a un malato? Giusta domanda. Ripartirei dall'inizio, saper essere, saper fare, saper comunicare. Un aspetto che comunque in questo saper comunicare diventa prioritario è l'empatia. Non è altro che la focalizzazione sul mondo interiore della persona che abbiamo in quel letto davanti a noi e la capacità che noi dobbiamo avere di intuire cosa si agiti nella testa di questo paziente, come si senta in una situazione e cosa realmente provi al di là di quello che esprime con le parole. L'empatia è una grande dote che noi sanitari tutti dovremmo avere e la capacità di leggere fra le righe e captare le spie emozionali del malato, di cogliere anche i segnali non verbali, stare a fare attenzione anche la sua gestualità, il suo tono di voce e soprattutto cogliere e intuire quale valore riveste un evento particolare per il malato che abbiamo di fronte. Però attenzione, noi in questa empatia non dobbiamo lasciarci guidare dai propri schemi di attribuzione di significato. Quindi empatia significa immedesimarsi nel paziente per comprendere il suo punto di vista, ma senza assumerlo come proprio, mantenendo il proprio autocontrollo. Un sanitario che si calasse nei panni del malato lasciandosi sopraffare dal suo dolore per le sue sofferenze renderebbe il malato emotivamente più abbattuto invece di dargli un sostegno. Quindi asteniamoci quando stiamo vicino ai nostri malati da dare valutazioni, approvazioni, disapprovazioni o correzioni sui pensieri del malato. La comprensione empatica implica la sospensione dei giudizi morali sui sentimenti riferiti al paziente. È l'accordo che si crea tra i sentimenti manifestati e quelli realmente provati. Se il malato percepisce trasparenza, guardate che si apre con fiducia a voi, altrimenti lo perdiamo e si chiude. Quindi un caregiver, un sanitario, un medico vicino al malato deve evitare certi errori. Non bisogna presentarsi al malato senza la consapevolezza di quello che comunichiamo e approcciarci con delle strategie comunicative errate. Stiamo attenti, è niente di più sbagliato. Il caregiver, il sanitario, il medico, l'infermiere devono saper interpretare talvolta il linguaggio del malato. Fatto non più di espressioni verbali compiute e significanti, bensì solo di comportamenti. È molto importante cercare una relazione chiara. Quindi come dobbiamo approcciarci? Intanto parlare lentamente, scandire la nostra voce con un tono normale, scandendo bene le parole, usare parole brevi, familiari, anche semplici. Porre solo una domanda o richiesta o ordine per volta. Non andare in rapida successione, perché niente di più è sbagliato. Preferire sempre delle espressioni positive più che quelle negative. Cercare di guardare in positivo. Evitare istruzioni che richiedono al paziente di ricordare un'azione più di un'azione alla volta. Evitiamo di rispondere alle stesse domande con le stesse risposte. Magari cerchiamo di rendere più forbite, più dolci. E quindi è molto importante in questo modo un atteggiamento rilassato da parte nostra, una voce calma, rassicurante. Quando il malato fatica a comprendere le parole che vengono scritte sulla nostra ricetta, si potranno usare manifesti e segnali per ricordargli che cosa usare e in quale modo. La possibilità di farsi capire permette al malato di mantenere un legame affettivo vitale con i familiari. È la premessa per poter impostare il miglior trattamento terapeutico e riabilitativo. La famiglia ha una sua psicologia. Ci sono famiglie che hanno una presenza particolare. C'è la negazione. Ci sono famiglie che tutto vedono in nero, dove tutto è stato vissuto male, la malattia, l'angoscia del dubbio, le condizioni di salute. E quindi queste famiglie hanno un atteggiamento di protesta contro tutto il mondo circostante. Danno sempre le colpe al mondo esterno. C'è una regressione totale. Non posso pensare ad altro. Devo per forza cercare di uscire, di curare. Ci sono anche quelli che hanno un atteggiamento remissivo, di isolamento e soprattutto purtroppo di depressione. Ci sono le famiglie che hanno una predisposizione diversa. Le famiglie che sono predisposte in maniera difensiva. Quelle che vogliono disimpegnarsi. Quelle che vogliono essere invece obbligatoriamente coinvolte. Quelle che sono molto coinvolte e quelle che sono legatissime alla persona cara. Quando abbiamo una famiglia obbligatoriamente coinvolta dobbiamo avere molta prudenza operativa. Dobbiamo avere una disponibilità sui specifici bisogni. Un ascolto attivo. Non fare estensioni. Non fare più di il dovuto e soprattutto dare un rinforzo a quello che facciamo. Quando ci sono le famiglie che vogliono disimpegnarsi badiamo molto alla comunicazione, alla disponibilità su specifici bisogni. Non fare eccessive estensioni operative. E vediamo di essere asettici sul giudizio ambientale. Ci sono quelle famiglie molto coinvolte. E la comunicazione efficace e assertiva qui è fondamentale. Bisogna essere anche pronti a dare di più. Quindi fare anche estensioni operative. E soprattutto puntare molto sulla propria alta professionalità. più ci sono le famiglie che hanno un amore sfrenato per la propria persona assistita. Lì bisogna essere più che mai assertivi. Disponibilità oltre i bisogni. Un ascolto attivo continuo. Fare anche il di più di quello che è stato chiesto. E la famiglia gradirà. Partecipare emotivamente alla famiglia e soprattutto essere anche umili. Dire io ho sbagliato. E poi ci sono quelle famiglie che sono invece predisposte negativamente in una situazione completamente opposta. Lì bisogna essere efficaci nella nostra comunicazione. Essere anche empatici. Capire quello che la famiglia vuole. Avere partecipazione decisionale e prudenza e soprattutto umiltà applicativa. Quindi il malato va trattato con molta accortezza. Molta intelligenza. Ci sono delle emozioni che noi sanitari, i caregiver, infermieri, medici non possiamo avere. Non possiamo lasciarci andare col nostro nervosismo magari per una situazione personale entrare nella casa di un malato o nella stanza di un ospedale con un vissuto negativo da qualcosa che ci riviene alla nostra quotidianità. Io concludo sottolineando questo aspetto. Che nella vita non raccogli ciò che semini ma raccogli ciò che curi. Un elemento molto fondamentale nella vita del nostro operato è saper scegliere tra due elementi che spostano questa bilancia che vediamo in questa immagine. Da una parte abbiamo la medicina difensiva. Dall'altra abbiamo un elemento fondamentale che si chiama alleanza terapeutica. La medicina difensiva è quando il medico non guarda in faccia, è insicuro, non comunica, cerca di non dare chiarezza sulla problematica perché si sente insicuro oppure non ha proprio contezza del problema. E questo crea uno stato di frustrazione. Vediamo questa immagine di chi è frustrato da qualcosa che ancora non ha capito del futuro della persona cara. Invece la medicina, l'alleanza terapeutica che porta a avere una comunicazione efficace, un ascolto attivo è la cosiddetta alleanza terapeutica. Il segreto non è prendersi cura delle farfalle ma prendersi cura del giardino affinché le farfalle vengono a te. Che cos'è questa alleanza terapeutica? È una relazione reciproca di collaborazione per il raggiungimento di un fine comune. Questa qualità dell'alleanza aumenta con la fiducia che si crea tra paziente e medico. Soprattutto aumenta nella misura in cui questo paziente si sente libero di discutere col medico preoccupazioni, aspettative, dubbi, disaccordi, contrarietà. E questo è l'elemento vincente in campo sanitario. L'alleanza terapeutica abbatte i ricorsi e le problematiche medico-legali e questo le aziende lo devono conoscere molto bene come aspetto. L'alleanza terapeutica rende il medico completo e capace di affrontare ogni situazione. Grazie della vostra attenzione e diamo peso ai valori che sono stati detti in questo incontro. Grazie a tutti. Dopo questa video intervista speriamo si risolvano tanti problemi di comunicazione, non solo nel mondo sanitario, ma anche nella vita di ogni giorno. Sei che WebTV ringrazia Dottor Pierfrancesco Di Masi e l'Associazione Nazionale Conslancio per tutto quello che fa nel territorio nazionale. Sei che può interessare o coinvolgere anche te! Grazie a tutti! Grazie a tutti!